circuito spalle utilizzando due manubri da 2 kg sono katia vaccari personal trainer esperta in postura oggi vediamo tre esercizi per tonificare le spallette partiamo con il primo esercizio quindi apertura laterale quindi stringo forte addome e da qui andiamo a fare 10 aperture quindi 1 2 stringo forte l'ombelico vai 3 e ancora 4 5 inspiro fuori aria quando vado su 6 7 8 9 e stop perfetto da qui andiamo a fare il press verso l'alto quindi gomito bene in avanti stringo addome e via 10 inspiro fuori aria 9 distendi bene su 8 le braccia vanno sopra la testa qua 7 6 stringi stringi ombelico 5 polso bene dritto 4 peso che scende all'altezza delle spalle ancora 2 ultimo e stop perfetto da qui andiamo a chiudere i gomiti ne andiamo a fare solo 5 quindi 5 4 bene il gomito che si chiude non così è vai 3 2 e stop e si sentono qui le spalle che lavorano andiamo a fare il secondo giro via andiamo fuori e 1 2 stringo stringo l'ombelico vai 3 fino all'altezza delle spalle 4 5 6 vai ancora 7 8 9 se brucia se brucia va bene 10 stop sciogli un po le spalle andiamo con le spinte verso l'alto da qui e vai su vai 1 stringi addome vai 2 inspiro fuori aria quando vado su 3 e andiamo 4 non guardare in alto guarda avanti 5 gomito stretto 6 non andare indietro in avanti 7 8 fuori aria quando spingo su 9 ultimo e stop si sentono i gomiti qui andiamo in chiusura 5 vai 5 4 chiudi bene i gomiti stringi addome 3 vai 2 ultimo e stop molto molto bene questo lo puoi ripetere un'altra volta e sciogli un po i polsi ti ricordo che questi esercizi sono contenuti nel mio programma wonder training l'unico programma personalizzato al 100 per cento che ti permette di dimagrire tonificare rassodarti senza rischio di farti male scoprilo al link qui sotto un abbraccio ciao